Sarà la dirigente Angela Spera ad assumere le funzioni di segretario generale del Comune dell'Aquila facente funzione in seguito alla sospensione di Carlo Pirozzolo dalle sue mansioni per l'inchiesta sull'exompi. Il primo cittadino ha già chiesto al prefetto la possibilità di avere un reggente, in ogni caso ha specificato il sindaco, non c'è alcuna paralisi dell'ente, le attività vanno avanti regolarmente. Adesso il segretario generale c'è perché abbiamo nominato immediatamente, ieri ho telefonato, l'ho avvertita ed è il segretario in questo momento facente funzione e l'autoressa Spera che di solito sostituisce il dottor Pirozzo nel periodo di ferie e così via, di disponibilità. Dopodiché ieri ho chiesto al vice sindaco di seguirmi questa vicenda, il vice sindaco ha parlato sia con il dottor Guetta, il vice prefetto che con il prefetto, poiché come sapete in queste sospensioni cautelari, non so come si chiamano, non c'è una durata, ma la durata massima è di un anno e noi non sappiamo anche perché ho letto che adesso ci sarà un appello. Insomma, in ogni caso noi abbiamo chiesto di avviare il procedimento per trovare una regenza. Io sto leggendo il comune bloccato, paralizzato, eccetera, eccetera, non è assolutamente vero. Il lavoro va avanti normale, a luglio il comune non è stato paralizzato, nonostante, no, ad agosto, l'avvocato Pirozzo si sia preso le giuste, meritatissime ferie.